Quando poi viene minacciato con un taser, un coltello e una pistola, sembra di essere in un film di un far west. Tre minuti di panico. Attimi di terrore a Fogliano della Chiana, in provincia di Arezzo, quattro banditi mascherati ed armati hanno fatto irruzione nell'hotel alle mie spalle, esploso anche un colpo di pistola. Hanno sparato un colpo di arma di pistola, probabilmente un piccolo calibro, sul soffitto. Ci hanno urlato di stare tutti calmi, che era una rapina, sono entrati subito così, hanno fatto un salto dietro alla reception e hanno ordinato alla ragazza che era lì dietro di stare calma, tranquilla, volevano i soldi, urlavano soldi, soldi, soldi. C'era solo la cassa dell'albergo. Hanno preso quella, hanno strappato quella e in quel momento si sono accorti che io ero qui in reception e hanno cercato di minacciare anche me con dei taser, dei coltelli. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. C'erano degli ospiti che avevano appena finito di cenare, li abbiamo fatti accomodare nelle proprie camere senza andare oltre la rapina che abbiamo subito noi. I malviventi si sono dati alla fuga con un magro bottino, appena 180 euro. Loro sono scappati di qua e per scappare di qua probabilmente hanno fatto già dei sopralluoghi qui, perché questo devi conoscerlo, perché c'è una scaletta interna che non tutti conoscono. Potrebbe essere riconducibile alla stessa banda un altro colpo messo a segno a Ponte Valliceppi nella provincia di Perugia nella stessa sera e sempre ai danni di un hotel. Non si teme più niente, quindi queste persone non hanno paura di niente, sanno di probabilmente rimanere impunite e questa è la cosa più grave.